Siamo sempre a Rivalta, alcuni cirri serali cominciano a striare il nostro cielo, ma noi continuiamo in perterriti a rubare gli ospiti a serre d'estate e portarli qua sui nostri sgabelli, ma perché vogliamo avere un po' le anteprime di quello che poi succederà sul palco, quindi l'invito è sempre quello di venire di persona e seguire tutti gli speech e le presentazioni, se poi proprio non potete, seguiteci in tv o in radio e noi vi raccontiamo qualcosina. E infatti qua abbiamo, come vedete, un'altra ospite, Alice Schellino, che ci racconta di un'uscita libraria estremamente interessante. Sì, l'abbiamo anticipato prima della pausa, prima del GR, insomma è un altro tema, lo raccontavamo anche, ce lo raccontava anche poco fa il libraio Edoardo De Magistri, questo viaggiare il margine nelle terre alte del Guatemala tra le donne maia di Alice Schellino, pubblicato da Capovolte, insomma Edoardo si è anche spesso molto rispetto all'editore, che è un editore militante, un editore femminista, orgogliosamente militante rispetto ai temi che pubblica e quindi da questo punto di vista anche un occhio di riguardo anche al catalogo di Capovolte, insomma sarebbe interessante. Alice è uno dei versanti, diciamo, dell'edizione 2024 di Serre d'Estate, insomma lo sguardo rispetto alle terre alte ma rispetto anche a un gruppo di donne, diciamo, orgogliosamente battagliere, io so che sto semplificando moltissimo, però evidentemente, insomma, parliamo di una realtà che dovrebbe, come dire, interrogarci in maniera molto forte, diciamo, i temi, da cosa parte, diciamo, il tuo lavoro in questo libro e, diciamo, dove ci porta, diciamo, questo tuo racconto? Grazie, grazie per la domanda che è interessantissima nel senso che ci sarebbe moltissimo da dire e in poche parole cerco di riassumere un po' quella che è stata la mia esperienza di scrittura ma prima ancora naturalmente di antropologia e, come dicevi tu, un ringraziamento anche alla casa editrice Capovolte perché davvero è stata un lume all'interno della selva oscura delle case editrici e proprio lei, quindi, mi ha seguito in questo discorso che avevo intenzione di portare un po' alla luce da tempo perché è un libro in realtà che ha tanti anni di costruzione, non è un libro venuto così, cioè nella scrittura è venuto fuori in pochi mesi ma in realtà arriva da anni di pensiero e di desiderio di scrittura. È un libro che ha differenti risvolti a seconda un po' di come vuole o può essere interpretato, quindi sì, sicuramente, come dicevi, è un libro che affronta e racconta il discorso delle terre alte del Guatemala ovviamente è il tema centrale, sono i luoghi in cui ho viaggiato più volte perché nel libro racconto appunto i ritorni che ho fatto su queste terre durante appunto gli anni ed è un libro che, come dicevi, affronta molto e racconta molto il tema della resistenza, in particolare femminile ma, come tengo a precisare, come cerco di spiegare anche nel libro, spiritualmente femminile, cioè delle donne, certo, parlo di alcune attiviste donne in particolare, anche indigene maia, eccetera, ma spiritualmente femminile vuol dire un certo tipo di attivismo che riguarda tutte quelle parti marginali delle società guatemalteche e non solo, quindi gli abitanti delle terre alte, gli abitanti delle comunità, le comunità indigene e poi le donne all'interno delle comunità indigene. Ti posso chiedere se rispetto, come dire, alla realtà di queste comunità femminili, visto che tu, mi sembra di capire, più volte hai incontrato queste comunità, c'è un elemento più degli altri che ti ha colpito, diciamo, nella loro attività, nella loro quotidianità, nella loro essenza? Non so se questa è un'altra di quelle domande impossibili, però insomma mi piace molto farti questa domanda, perché mi piace molto spesso chiedere agli autori, diciamo, il filtro personale, diciamo, applicato alle esperienze che poi finiscono in pagina. Sì, beh, no, è una domanda bellissima in realtà, forse da articolare un po', però, dunque, ovviamente a guidarmi è stato il sentimento dell'empatia, quindi forse anche per questo che, pur non essendo un tema di ricerca iniziale, il rapporto, la relazione con le donne è venuto poi fuori in maniera abbastanza evidente. E ciò che mi ha comunata loro, l'elemento in cui mi sono rispecchiata molto è proprio quello un po' della marginalità, poi ovviamente questo aspetto andrebbe un po' spiegato, però, della marginalità e della resistenza, per cui da un lato essere la parte di società più afona, cioè senza voce, quindi senza possibilità di esprimere la propria cultura, che è ancora una cultura ricchissima, perché solo nelle Terre Alte si parlano ancora 21 lingue maya, quindi una ricchezza culturale ancora davvero esorbitante e, dall'altra parte, però, l'essere sempre costantemente ai margini, quindi una società patriarcale, una società razzista all'interno, ovviamente, del patriarcato, una società violenta contro le donne e anche contro le figure di attiviste femminili che, appunto, sono state anche uccise proprio nel loro atto di resistenza. Quindi la mia vicinanza alle donne è stata proprio nel discorso vicinanza alle donne e vicinanza alla terra delle comunità indigene che soffre insieme alle donne e alle comunità. Allora, la cosa bella di fare anche la TV è che si possono esibire le copertine dei libri, insomma, che noi da queste parti adoriamo particolarmente. Questa è la copertina del libro di Alice Schellino, Viaggiare il margine nelle Terre Alte del Guatemala tra le donne e maya, pubblicato da Capovolta. Ti posso fare un'altra domanda? Impossibile. Siamo quasi in chiusura. Immagino che, come dire, tu, insomma, vada in giro a raccontare, come io spero, insomma, il libro, questi temi importanti, però molto spesso il rischio è che il lettore occidentale viva, come dire, una sorta di scollamento da queste realtà, no? E molto spesso può capitare che, come dire, l'approccio a queste comunità sia un approccio più, come posso dire, emozionale dal punto di vista superficiale, diciamo. Che risposta c'è, diciamo, quando racconti questa comunità così battagliera, diciamo, a me, insomma, batte fortemente il cuore pensare, diciamo, a comunità di questo genere. Sì, no, intanto complimenti per le domande, perché è un'altra domanda cruciale, nel senso che un altro obiettivo della mia scrittura è quello di portare proprio il lettore, lettrice, con me all'interno delle terre, quindi mi discosto volontariamente, anche perché non avrei potuto fare diversamente, da una scrittura più antropologica, in senso stretto, quindi proprio la classica monografia etnografica, ma ammetto moltissimo di me, quindi le sensazioni tanto belle quanto difficili, l'estraniamento, le difficoltà di trovare un dialogo e in questo però poi il vero obiettivo che ho e che penso che esca anche in modo abbastanza chiaro è proprio il far comprendere anche il mostrare un turismo, un modo di viaggiare differente, per cui, certo che il Guatemala è anche meta turistica classica, per cui ha le classiche mete e c'è un turismo fiorente in quel senso lì, ma è un turismo come definisco aggressivo e non curante della comunità maya e invece cerco di far vedere che un modo differente di viaggiare è possibile soprattutto, che è importante farlo proprio in terre sofferenti. Ecco, parlando di scrittura, della scrittura, è sempre stato facile lineare tradurre queste esperienze in parole e quindi in lettere e carta stampata, oppure sono stati dei momenti in cui, insomma, si sei trovata davanti al dubbio come lo dico, nel senso come lo esprimo, come lo traduco in parole quello che sento? Sì, grazie anche per questa domanda. Sì, certamente, anzi, quel grande dubbio ricerca della modalità di scrittura mi ha attraversata per lungo tempo, nel senso che io avevo l'obiettivo e dentro di me pensavo avrei scritto una classica monografia, ecco, non so se, ma proprio per dirla in pochissime parole, un testo per lo più oggettivo, poi sappiamo che l'oggettività è difficile da tenere, però in cui elencavo le varie parti della cultura e della società che avevo conosciuto e ci ho provato. Questo non mi è stato proprio possibile, finché proprio non ho detto riprendo i miei diari di viaggio, guardo dentro tutti i ricordi che ho, la mia scrittura è rimasta bloccata. Una volta che ho preso invece quella via lì, in tre, quattro mesi, adesso non mi ricordo neanche bene, però l'ho scritto, diciamo, ha preso forma, quindi poi una volta che forse si trattava solo di incanalare e poi non mi sono ovviamente chiesta che modalità potesse arrivare di più, io ho fatto la mia e poi ecco. E poi ha funzionato. E poi ha funzionato di sicuro, intanto tra più o meno cinque minuti Alice Schellino siederà nel main stage insieme a Marco Aime che insomma ha voluto rimanere diciamo nell'ombra, ma noi insomma abbiamo rispettato la sua volontà, in ogni caso io starei qui a dialogare, non so se sei d'accordo Dennis con Alice, anche ancora per un'ora, ma uno non lo possiamo fare perché la diretta sta per finire, due Alice non sarebbe neanche tanto d'accordo diciamo, per cui io ti rubo ancora il libro di Alice, Viaggiare il margine nelle terre alte del Guatemala tra le donne Maya, pubblicato da Capovolte quest'anno, febbraio del 2024. Alice intanto grazie per essere stata qui con noi, spero sia stato un buon tempo anche per te, ovviamente buon incontro, buon serre d'estate, noi intanto ci prendiamo ancora un passaggio con la musica e poi insomma torniamo per i saluti finali, grazie ancora, a tra poco.